Siamo ad Altino, dinanzi alla residenza per anziani Villa Aurora, dove in questi giorni si è sviluppato un focolaio di Covid. Tutti gli ospiti sono stati infettati, ma per di più ci sono stati anche due decessi. Siamo con il sindaco Vincenzo Muratelli. Qual è la situazione? Al momento abbiamo, dai dati che ho io, tutti gli ospiti presenti, 55 ospiti presenti in assoluto sono infetti, più tutto il personale che era a servizio di questa struttura. Quindi parliamo di circa 68 unità di persone che sono risultate infette. In questi giorni mi sono attivato in qualità di sindaco per cercare di trovare una disponibilità anche di aiuto. Io lancio un appello, la prego dottoressa di rilanciarlo anche lei, per la ricerca del personale. Questa struttura ha bisogno di os, di infermieri, quindi potrete contattare anche direttamente il comune di Altino. Vi faccio carico io poi di riportare la proprietà di questa struttura. Lei ha appena portato anche del materiale. Sì, io ho rintracciato la disponibilità di un po' di materiale e l'ho portato molto volentieri. Qui parliamo di una situazione che va sostenuta non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche a livello umano. Da questo punto di vista sono un po' dispiaciuto nella situazione quasi di abbandono da parte dei rappresentanti politici di questo territorio che non mi hanno cercato. Io devo ringraziare il dottor Di Giovanni, il direttore del PTA di Caso, perché è stato veramente artefice di un'attività, ha attivato subito l'USCA. Noi avevamo sperato che questo non accadesse nella nostra comunità, ci siamo difesi bene. Il territorio comunale attualmente abbiamo solo 12 positivi, però questa notizia la settimana scorsa ci ha un po' restabilizzato una comunità, perché questo è un luogo che è diventato luogo di comunità per noi, perché qui dentro ci sono anche diversi nostri cittadini. Lo screening è andato bene come partecipazione? Sì, noi abbiamo fatto tre giornate, 1430 tamponi, abbiamo anche fatto lo screening dedicato per le scuole, abbiamo rintracciato tre positività, di cui una solo, un cittadino residente. Io sono come comune sotto monitoraggio da parte della ASLE, però volevo evidenziare questo aspetto. Noi abbiamo questi numeri, abbiamo 78 positivi nel nostro comune, però solo 12 legati fuori da questa struttura, che purtroppo è stata investita da questo dramma. Quindi la situazione dei contagiati qual è? La situazione all'interno, i 33 ospiti che stanno attualmente qui, sono in buone condizioni, dal punto di vista della salute. L'USCA poi ha deciso di trasferire otto ospiti nel RSA di Casoli, mentre altri quattro sono stati trasferiti a Gisti. Quindi la situazione dei presenti qui è una situazione rassicurante relativamente a questa condizione qui. Aggiungo per correttezza che i ringraziamenti vanno rivolti anche all'assessore Verì, con cui ha avuto un'interlocuzione telefonica e quindi la ringrazio della sua attenzione.